Fiaccolate notte bianca contro la riforma della scuola nella serata di ieri si sono svolte in tutta Italia. Infatti, dopo lo sciopero dello scorso 5 maggio, sono tornati in piazza in 70 città italiane i docenti delle scuole che hanno preso parte alla protesta indetta dai sindacati CGL, CISL, Will Scuola, Gilda e Snals. Finalità della manifestazione è una sola, lottare per cambiare il testo del provvedimento, ora in discussione al Senato. Anche a Termoli i docenti sono scesi in piazza. Continua la mobilitazione di tutto il mondo della scuola contro il disegno di legge Renzi che è la distruzione e la devastazione della scuola pubblica in senso autoritario che attribuisce tutto il potere a una persona, svuota di valore gli organi collegiali, distrugge tutta quella che è la vera autonomia della scuola e anche se il governo pensa di andare avanti deve sapere che tutti gli insegnanti che hanno scioperato a Roma continueranno a lottare fino alla fine ed erano l'80% della popolazione che lavora nella scuola. Sarebbe bene quindi che invece di usare formule arroganti e invece di dire noi continuiamo si ascoltasse chi nella scuola lavora e che sa spiegare molto chiaramente tutta l'infinita serie di motivi per cui questa riforma non va. Per il potere eccessivo dato al preside, per la cancellazione degli organi collegiali, per il rinnovo di contratto scaduto da otto anni, per la cancellazione delle graduatorie, la creazione di questi albi, questi contenitori vuoti dove finiranno gli insegnanti che dopo tre anni poi non possono essere richiamati. Insomma la distruzione della scuola pubblica in una parola. Ecco perché siamo qui. La fiaccolata a suon di slogan ha attraversato Corso Nazionale per giungere fino a sotto la passeggiata che costeggia le mura del Castello Svevo.